Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel Oggi siamo con un video non di gameplay Ma come potete vedere volevo far uscire un video In cui vi facevo un po' vedere tutte le nuove info Che sono state rilasciate fino adesso Circa la nuova espansione di The Sims 4 Cani e Gatti Che vi ricordo uscirà il 10 novembre Quindi essendo oggi il 10 ottobre Manca esattamente un mese all'uscita dell'espansione E quindi volevo, per festeggiare diciamo così Vedere un po' insieme a voi tutte le novità Che hanno rilasciato anche i produttori Nelle varie interviste eccetera In modo da esplorare un po' già da adesso questa nuova espansione Io ogni volta che trovavo nuove informazioni Me le sono salvate, ho salvato la pagina sul computer In modo che adesso ce l'ho tutta insieme E quindi se qualcuno di voi si è perso Alcune di queste nuove info Le vediamo così insieme Allora, tutte le informazioni le ho prese da questa pagina Che vi faccio vedere Che è a Sims World Quindi se volete potete tranquillamente andare sul sito E le trovate anche voi Dunque, iniziamo da questa Vado un po' in ordine cronologico Con cui sono state rilasciate le informazioni Quindi l'espansione uscirà il 10 novembre E qui parla un po' del CAS Torna il crano animale ed è più potente che mai Esplorate un imponente archivio di razze canine e feline Oppure incrociate due razze qualsiasi con pochi click Per creare il bastardino perfetto E riguarda i manti Che vogliate aggiungere alcune macchie O una sola sul muso Oppure che preferiate usare gli stampini Per dipingere motivi più complessi Personalizzare i vostri animali Non è mai stato più semplice Oh, e abbiamo anche dei costumi per cani e per gatti Il vostro cane potrà quindi andare a nuotare vestito da squalo Quindi guardate qui queste fotine Guardate questo gatto tutto colorato Questo praticamente ci dice che La personalizzazione degli animali è davvero al massimo Quindi noi possiamo creare nel CAS dei cani e dei gatti Già con delle razze predefinite Ma poi possiamo modificarli come più ci pare Cioè possiamo proprio andare a colorare i manti Come se stessimo su paint per capirci Quindi possiamo fare dei disegnini Tutto quello che vogliamo proprio Per chi vuole fare degli animali un po' più particolari Si può E poi appunto abbiamo anche i vestitini E questo l'abbiamo visto anche nel trailer Una volta entrati nella modalità vivi Vi accorgerete che gli animali sono più espressivi Interessanti e distinti che abbiamo mai realizzato I gatti cercheranno di non farsi vedere dai cani Stando in cima al frigorifero E guardando i miseri mortali dall'alto in basso I patroni più attenti potranno addestrare il proprio cane A eseguire una serie di giochini sempre più complicati Oppure portarlo al passeggio per il nuovo scenario di Branleton Bay E inseguire uccelli e spanchirsi le gambe I tratti rendono ogni animale realmente diverso da tutti gli altri Ma solo i migliori padroni riconosceranno i desideri, i timori e le altre caratteristiche Questa cosa la trovo veramente molto carina Perché comunque noi non abbiamo la possibilità di controllare gli animali direttamente Così come ad esempio era possibile fare nel 3 Però possiamo tramite il sim dire alcune cose agli animali Ad esempio di andare in un posto, di fare determinati giochini Quindi dovremo poi capire noi in quanto sim i bisogni degli animali Io la trovo molto carina come cosa perché è più realistico alla fine Che noi non possiamo controllare gli animali Quindi mi piace di più In questo modo si instaureranno anche dei legami diversi tra sim e animale Perché ogni sim dovrà guadagnarsi la fiducia del proprio animale Quindi veramente mi piace questa scelta di non poterli controllare Andiamo ancora avanti Una volta addestrato il vostro cucciolo e sistemata la mangiatoia per gatti Chiedete ai vostri sim di acquistare lo studio veterinario locale Per iniziare a lavorare da lunedì Proprio così potete gestire una clinica veterinaria tutta vostra Assumere il personale più preparato Diagnosticare malattie ed eseguire interventi Per migliorare lo stato di salute degli animali del quartiere E guadagnare qualche simoleon E io questa cosa assolutamente la adoro Cioè la possibilità di gestire una clinica Di lavorarci dentro è una novità assoluta Quindi non vedo l'ora di provare questo lavoro assolutamente E queste sono le prime informazioni che sono uscite Adesso andiamo a leggere qualcos'altro Ok, qui invece ci parla un po' Della carriera appunto di veterinaria Riproduzione, controlli e altro ancora Allora, le info principali sono Non si potranno controllare gli animali in The Sims 4 cani e gatti E questo l'abbiamo appena visto Gli sviluppatori hanno rilevato Che questo dettaglio è stato discusso per parecchi mesi Ma alla fine è stato stabilito Che per rendere gli animali spontanei, speciali, meravigliosi e con un'anima Sarebbe stato meglio non poterli controllare Esattamente quello che vi dicevo io Quindi sono d'accordissimo con questa scelta Poi, la ruota dei colori sarà un'esclusiva Dello strumento di creazione degli animali Cioè il CAP Pertanto non sarà disponibile per i sim e per gli oggetti Ok Non sarà rilasciata una demo del crea un animale Va bene Vista l'impossibilità di controllare gli animali Non ci sarà il comando Vai qui per loro Tuttavia, i sims potranno chiamarli a sé tramite un'interazione Come si fa appunto nella realtà Poi, tra le razze preimpostate Ci sarà lo spitz giapponese Gli animali potranno essere portati dal veterinario Se avranno qualcosa che non va Si potranno adottare animali, ovviamente Ci saranno i cani randaggi Gli animali potranno riprodursi e quindi fare i cucciolini Sembra che gli animali non avranno le carriere Ok, questo nemmeno nel 3 c'era Quindi va bene È stato confermato che gli animali passeranno di età Per cui si presumo abbiano delle fasce di età Dovrebbero essere presenti dei lotti che si affacciano sul mare Quindi sul nuovo scenario Non ci saranno mostri canini O competizioni di alcun genere Sebbene non si possano controllare Sarà comunque il giocatore a comandare gli animali Di riprodursi assieme alle altre interazioni Ecco, questa è una cosa buona Perché almeno non rischiamo di trovarci troppi cuccioli Poi, ci saranno nuovi tratti per i sim Ottimo Gli animali non potranno ricevere o perdere tratti come sim Ci saranno molte opzioni di personalizzazione per gli animali Si potranno educare gli animali Ok Ci saranno i cuccioli sia di cane che di gatto E saranno anche modificabili nel cap Si potranno creare i cuccioli già nel cap Perfetto Questo ad esempio nel 3 non c'era Perché potevi creare solo un animale da adulto o da anziano I cuccioli no Invece in questo caso ci sarà la possibilità di creare anche i cuccioli direttamente Benissimo Poi ci saranno da cani di taglia grande e piccola E gatti no Ovviamente saranno diciamo taglia unica Gli animali potranno trovare oggetti nello scenario e portarli ai patroni In maniera differente da come accademia dei simstre Sono curiosa di vedere come l'hanno sviluppata questa cosa Poi cani e gatti potranno dormire con i loro padroni nel letto Dipende dal loro taglio e dal tipo di letto I cani e gatti occuperanno uno slot nei posti disponibili dell'unità familiare come i sim Non si potrà quindi superare il limite di 8 componenti come nei capitoli precedenti Ok Poi ci saranno le volpi ragazzi E anche i procioni Non so se nelle altre pagine viene detta questa cosa Ma oltre a cani e gatti ci sarà la possibilità anche di avere delle volpi e dei procioni Non solo in giro nello scenario ma potranno proprio essere anche adottati e creati nel cast Uno degli stati di età per gli animali sarà anziano Vabbè probabilmente ci saranno le classiche fasce di età per gli animali Cucciolo, adulto e anziano Poi andiamo a vedere ancora altre informazioni Eccoci qua una nuova pagina che parla di tetti ottagonali, procioni, animali, fantasma e altro ancora Tra le info più importanti leggiamo Gli alani dovrebbero essere presenti nel gioco anche se con dimensioni più ridotte rispetto a quelle reali Ci sarà nuova musica Fare il veterinario è come possedere un ristorante ma la possibilità che il proprio sim possa essere un veterinario e intervenire attivamente nell'attività Io adoro questa cosa, lo ripeterò all'infinito perché non vedo l'ora di provare questa carriera ragazzi Secondo me sarà bellissima In risposta ad un fan contrario alla libera autonomia degli animali perché vista come cosa incontrollabile Grant, che è uno dei produttori, ha dichiarato che gli animali non sono stati progettati per essere fastidiosi e rendere il giocatore frustrato Ok Ci saranno cani e gatti fantasma Quindi da cui deduciamo che gli animali potranno morire ovviamente come i sims Poi cuccioli di cani e di gatto saranno una fascia di età modificabili nel CAS e questo l'avevamo già visto Alla domanda di una fan che chiedeva se ci saranno mai animali più piccoli come i criceti, conigli, uccelli e rettili Grant ha risposto che non può parlare di cose non annunciate Da ciò si deduce che questi animali non sono presenti nell'espansione Infatti ci saranno solo cani, gatti, brocioni e volpi Poi ci sarà la possibilità di impostare la divisa dei dipendenti della clinica veterinaria Ci saranno i Beagle, i Ciocio e i Carlini come razzi di cani Ma ce ne stanno tantissime di razze ragazzi quindi possiamo stare tranquilli L'adozione di animali sarà disponibile tramite telefono Non si potranno vendere in adozione i propri animali Questo è un punto che non mi è chiaro perché comunque poi parlava della possibilità di darli in adozione Quindi non lo so, però in ogni caso se non si possono dare in adozione Cioè se non c'è proprio un'opzione specifica Io penso che semplicemente se uno non vuole tenersi troppi animali Perché ad esempio gli fa troppi cuccioli I cucciolini possono essere regalati magari ad altri, ad amici e parenti Spostandoli tra unità familiari semplicemente Quindi comunque non è che uno si deve tenere per forza tutti i cuccioli che nascono per dire Poi si potranno aggiungere le volpi e l'unità familiare tramite il crano animale Stessa cosa vale anche per i brocioni Ci saranno animali che compariranno automaticamente nei quartieri Dovrebbe esserci la possibilità di adottarli tramite interazione Quindi possiamo adottare anche i randaggi Nel citare un post in cui si speculava l'arrivo dei tetti ottagonali Sims Guru House ne ha confermato la presenza Quindi ci saranno nuove forme di tetti nel modalità costruisci Non è chiaro se verranno aggiunti tramite aggiornamento o meno Sembra inoltre che non saranno l'unico nuovo tipo di detto che sarà presente Quindi sicuramente ci saranno anche nuovi oggetti nel costruisci Si potranno portare i propri animali con sé negli altri scenari Anche nei lotti segreti ad eccezione di Sixama che è il pianeta degli alieni Infatti anche nel trailer si vede che si possono portare a spasso i cagnolini Puoi portarti con te anche i gatti eccetera La coppia gay che si vede sposare nel trailer sarà un'unità familiare preesistente a Bradley Torn Bay Qui invece parliamo di castrazione, bancarelle, razze e altro ancora Allora, le informazioni principali abbiamo Gli animali visti nel trailer saranno probabilmente caricati nella galleria Quando verrà rilasciato il gioco Ok, come succede spesso Ci saranno dei live stream più di uno sull'espansione in futuro Infatti proprio in questi ultimi due giorni stanno uscendo tanti piccoli spezzoni di video Circa il gameplay, il cast Quindi magari anche in giro per YouTube si possono trovare qualcosa Poi nel trailer è visibile una cassetta delle lettere a forma di gatto Oh, carina Non ci saranno creature soprannaturali In The Sims 4 cani e gatti Ok, tanto non c'entravano molto in effetti Sims Guru Drake ha spiegato che pur essendoci volpi e procioni Il pack ha chiamato cani e gatti Perché questi ultimi sono il focus principale, ovviamente Bradley Torn Bay sarà popolata da gabbiani Anche se dovrebbe trattarsi di semplici effetti grafici E questi infatti si vedevano già nel trailer Poi, le volpi e procioni sono in realtà delle particolari razze di cani e di gatti Anche se a detta degli sviluppatori avranno qualche cosa in più Quindi magari qualche interazione particolare che sono curiosa di scoprire Si potranno portare le volpi e i procioni dal veterinario come qualsiasi altro cane e gatto E mi sembra pure giusto Pur essendo tecnicamente dei cani, le volpi non abbaglieranno come loro Ma faranno il loro tipico verso stridulo Che non so qual è il verso delle volpi, sinceramente Ora che ci penso, quindi sono curiosa di sentirlo Poi, tra le razze di gatti sarà presente il gatto scozzese Con le sue orecchie piegate Sembra che ci saranno tutti gli elementi necessari nel cap per creare un lupo Bellissimo Anche gli animali saranno manipolabili direttamente come i sims nel cap Le orecchie, ad esempio, saranno una delle parti modificabili con il mouse Perfetto Quindi allo stesso modo in cui modifichiamo i sim Andando con la manina, sul muso, orecchie, eccetera Possiamo modificare anche i nostri animali Le volpi potranno nuotare come gli altri cani I procioni no, essendo in realtà dei gatti Ok, quindi praticamente solo cani e volpi possono fare il bagno Ci saranno nuove bancarelle di cibo Oh, che bello! Io le adoro le bancarelle, quindi sono proprio contenta Una di queste venderà il pesce, data la vicinanza al porto Quindi immagino che nei dintorni di questa bancarella si aggirranno un sacco di gatti Grant ha confermato in un video che gli animali si potranno castrare e decastrare Ok, finché abbiamo il castrare ci può anche stare Il decastrare un po' mi lascia qualche dubbio perché nella realtà non si può fare Però vabbè, tutto sommato in un gioco ci può anche stare I cho cho con il manto adatto potranno assomigliare molto a dei panda Oh, che carini! Ok, ci sono ancora altre cose ragazzi, quindi andiamo a leggerle Qui invece parliamo di eterocromia, vestitini, cuccioli e altro ancora Allora, informazioni principali sono Sembra che anche gli animali fantasma necessiteranno di fare il bagno Ok? Prendersi cura degli animali sarà un'azione che aumenterà la responsabilità dei bambini e degli adolescenti Perfetto, mi pare giusto Mi piace anche come le nuove espansioni si integrano con le funzioni vecchie Quindi veramente mi piace questa cosa Anche i gatti potranno indossare dei vestiti Gli animali potranno avere l'eterocromia, cioè i colori degli occhi diversi, ma non i Sims Anche gli animali potranno avere più di un abito per la stessa categoria, come già accade per i Sims Rispondendo ad un fan che domandava se nel gioco ci saranno i border colli SimGuru Daniel ha dichiarato che se pensi ad una qualsiasi razza è molto probabile che ci sarà Quindi avremmo veramente tante tante razze diverse Le categorie di abiti non saranno esattamente uguali a quelli dei Sims Quotidiani, formali, sportivi, eccetera Vabbè, vale pure ovvio I gatti non potranno essere portati a coincaglio come i cani D'accordo? Ci sarà un nuovo lotto di dimensioni 64x64 e 2x40x40 Questi non saranno ovviamente gli unici lotti dello scenario Ottimo, probabilmente quindi hanno aggiunto proprio una nuova tipologia di lotto Magari parchi canini, felini, lo scopriremo Alla domanda di un giocatore che chiedeva se ci saranno nuove abilità Tratti dei lotti, ricette, aspirazioni e nuovi tipi di lotto SimGuru Daniel ha risposto con un va così Non è chiaro però quali di questi elementi sono confermati e quali no E va bene, lo scopriremo Ci saranno dei lotti vicino alla spiaggia In Lhasa, solo gli orchi e il maltese saranno presenti nel catalogo delle razze Si potranno oltre aggiungere il pelo lungo a qualsiasi razza In realtà il maltese è disponibile solo nella versione a pelo colto Ok Come in The Sims 3 ci saranno tre fasce di tapp per gli animali Cuccio, adulto e anziano E ok Ci saranno anche i cuccioli di procione di volpe Oddio ragazzi, i cuccioli di volpe li voglio troppo vedere Poi si potranno modificare la forma e le dimensioni della pupilla degli animali nel CAS Non si potrà modificare il numero delle dita delle zampe Ma in compenso si potranno pitturare le zampe L'immagine sottostante mostra la coppia gay preesistente in brani in Lombay Farsi un selfie di fronte alla loro casa I nomi dei due Sims sono rispettivamente Brent e Brandt Che fantasia Guardate però che carini davanti a questa casetta No, io già vi dico ragazzi che qualcuno della serie principale Quando la seconda generazione diventerà giovane adulto Sicuramente trasferirò qualcuno in questo nuovo scenario Che io già dalle poche foto che ho visto lo adoro Quindi sicuramente ci andremo a giocare anche in questo nuovo scenario Poi manca l'ultima pagina di nuove informazioni E abbiamo più o meno finito Qui invece si parla di lista tratti animali più nuove info Allora Qui vi fa un elenco di tutti i tratti presenti tra cani e gatti Ce ne sono un sacco Vedete Affezionato, distaccato, intelligente, curioso, soffice, spirito libero, amichevole, vivace, ghiottone, pigro, dispettoso, giocoso, predatore, pauroso, viziato, loguace e territoriale Quindi un sacco di tratti anche per gli animali Non so se ne potranno dare tre come per i Sims Ma credo di sì Nei giorni scorsi gli sviluppatori hanno inoltre risposto a nuove domande rivolte dai fan Rivelando nuove informazioni sull'espansione Quindi abbiamo Gli sviluppatori hanno più volte ribadito che anche se una razza non è disponibile tra quelle predefinite È possibile utilizzare lo strumento di creazione razze miste Per personalizzare una razza al punto tale da farla assomigliare molto a quella che si vuole ottenere Le razze modificate possono essere anche salvate con un proprio nome Lo Shih Tzu sarà una razza preesistente È ovviamente possibile fare un ritratto ad un animale utilizzando il cavalletto grazie all'interazione di Pingeridratto già presente nel gioco Come accade nella realtà è più probabile che da una cucciolata nascano più di un cagnolino o un gattino Saranno inoltre presenti cuccioli di volpe e di procione Si potranno cambiare i colori dei manti esistenti nel crano animale L'attuale struttura dell'interfaccia grafica è ciò che non ha reso possibile il superamento del limite di 8 simi animali in unità familiare Si potranno portare i cani a passeggio, questo l'abbiamo già visto I gatti non graffiranno i tappeti né daranno fastidio ai pesci Potranno però graffiare altri mobili e mettersi in altri tipi di guai Lo yorkshire è incluso nelle razze preesistenti Tutti i cuccioli avranno le stesse dimensioni, senza distinzione tra cuccioli di cani grandi e quelli di cani piccoli Si potranno vendere o mettere in adozione i cuccioli, non sarà necessario tenersi tutti per sé Quindi sì ragazzi, prima diceva che non si potevano mettere in adozione Però poi questa cosa è stata vista che non è così Ma si potranno mettere in adozione i cuccioli Perfetto Mescolare due razze combinerà casualmente i tratti fisici di entrambi Ok, quindi diciamo vi ho fatto vedere le nuove informazioni più importanti che sono state rilasciate fino adesso Adesso volevo anche farvi vedere velocemente alcune foto che io mi sono salvata del nuovo scenario che è bellissimo Brunelton Bay Ecco qui, questa è una, cioè guardate che meraviglia Quindi è uno scenario che sta sul mare, su un porto Guardate qui queste casette qua in alto immerse nel verde degli alberi E questo è qui più vicino al mall dove c'è la barca Cioè guardate che bello, che dettagli Cioè questo quartiere veramente penso che diventerà il mio preferito Poi c'è un altro paio di fotine Ah, qui fa vedere il nuovo tetto ottagonale che sarà messo Nei tetti della modalità costruisci E poi qui c'è un'altra bella foto in qualità migliore Anche qui che ritrae uno scroscio di porto Vedete? Qui con gli animali e tutto Cioè guardate che bello Cioè veramente Questo quartiere secondo me sarà il top del top Quindi io assolutamente ci voglio prima o poi venire a vivere Ah, guardate poi qui Queste penso proprio che siano le nuove bancarelle Quelle a cui accennavano Tra cui quella che vende il pesce Quindi ragazzi Vi ho fatto vedere un po' di nuove informazioni Che sono uscite fino adesso Probabilmente molti di voi già le avranno lette Però magari per chi ne fosse sfuggita qualcuno Magari è stata utile questa cosa Ecco Ci tenevo a farlo uscire proprio oggi 10 ottobre Quando manca esattamente un mese all'uscita dell'espansione Volevo diciamo festeggiare il fatto che ormai manchi poco Ecco Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti Se vi piacciono tutte le nuove informazioni che avete letto E poi nei prossimi giorni sicuramente usciranno nuove informazioni Probabilmente anche un nuovo trailer Quindi magari farò anche un altro video a proposito Tra qualche tempo Poco prima che uscirà l'espansione Però oggi ci fermiamo qui Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così mettete il like Mettete anche il mi piace alla mia pagina Facebook Per rimanere sempre aggiornati Noi ci rivediamo presto nei prossimi video Ciao